E' un applauso! Tanti auguri a me! Tanti auguri a me! Tanti auguri a me! E mentre il finale si prepara, veramente questa volta siamo arrivati alla fine, un saluto e un ringraziamento grande a tutti voi della vostra presenza. Anche quest'anno è andata bene, almeno per noi. Vogliamo finire, Michele mi ha dato un'idea per l'ultima canzone.